Gli ultimi in ordine di tempo sono i 163 migranti sbarcati oggi nel porto di Catania, tutti eritrei ed egiziani, fra loro anche una sessantina di minori. Erano stati soccorsi ieri dalla Marina Militare al Largo di Malta, adesso verranno trasferiti in un centro di accoglienza di Messina, dove però la situazione sembra nuovamente precipitata a causa dei danni provocati dal maltempo al Palanebiolo, la struttura sportiva che da mesi ospita le tende. Un altro consistente gruppo di estracomunitari atteso dall'altra parte della Sicilia si tratta dei quasi 900 migranti, soccorsi nelle ultime ore a Largo di Lampedusa da due mezzi della Marina Militare che stanno facendo rotta verso Trapani. Qui è stato convocato anche un vertice in prefettura alla luce dell'escalation di arrivi degli ultimi giorni. Insomma una situazione calda da un capo all'altro dell'isola alla quale si aggiungono le fughe di massa che continuano a registrarsi nei centri di accoglienza. Alcune decine di minori che si trovavano alloggiati qui dopo essere sbarcati al porto venerdì scorso. Trasferimenti e fughe fanno salire l'allerta anche sul piano sanitario. A lanciare l'allarma nei giorni scorsi era stato ad esempio il sindaco di Modica, che aveva parlato dei casi di scabbia, tubercolosi e AIDS fra i migranti ricoverati all'ospedale maggiore. E sempre a Modica aveva fatto discutere la protesta di un gruppo di genitori, che ha deciso di non mandare i propri figli in gita scolastica, perché i pullman usati sarebbero stati gli stessi impiegati per trasferire gli estracomunitari. Nella mia città è diventata la seconda lampedusa. Sono arrivati dal primo gennaio a qualche giorno fa, due o tre giorni fa, 6.500 migranti. Quindi abbiamo questa difficoltà nel dover gestire questo numero di persone che arrivano al nostro porto. Il nostro centro di prima accoglienza ne può contenere 180, ma generalmente ne abbiamo più del doppio. E quindi siamo costretti a fare dei tour de force che ci sfiancano, anche perché gli sbarchi si susseguono giornalmente. E quindi abbiamo delle serie difficoltà a poter garantire l'accoglienza a queste persone. E a tutto questo si aggiunge la polemica sull'efficacia della missione Mare Nostrum. Da Augusta, oggi il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, torna a chiederne l'interruzione. Quella che chiamano immigrazione dice in realtà un'invasione. Bisogna dire subito stop all'operazione Mare Nostrum. La replica arriva dal deputato del PD Khalid Chauqi, che parla di speculazione sulla pelle dei migranti. Grazie a tutti.